15.000 partecipanti tra atleti, associazioni sportive, famiglie e appassionati arriveranno a Napoli da tutta Italia per la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro Libertas 2024. Il Centro Nazionale di Promozione Sportiva è impegnato da quasi 80 anni nella diffusione dell'attività fisica sportiva a livello amatoriale ed agonistico ed opera a sostegno delle associazioni per avvicinare i cittadini alla cultura del benessere. L'evento si terrà sabato allo Stadio Maradona dove alla premiazione si alterneranno momenti di spettacolo. Libertas ha scelto Napoli per la prima volta per fare un'iniziativa che penso sia davvero molto significativa che è quella della premiazione di tanti atleti che sono però poco conosciuti e che sono tutti gli atleti delle associazioni sportive che rientrano nella PS Libertas e che al termine di quello che è un anno di attività sportiva riceveranno i riconoscimenti per i campionati che hanno vinto all'interno della loro associazione. Quindi è un momento davvero di importante aggregazione soprattutto saranno premiati i ragazzi, i bambini che fanno sport tutti i giorni. Sappiamo quanto è importante il valore sociale, quanto è potente il valore sociale dello sport e quindi in questo modo aggreghiamo tante persone e tante famiglie in un momento di semplice gioia quotidiana per quello che si fa poi tutto l'anno e quindi sono veramente contenta di accoglierli a Napoli.